Lavori ancora in corso per la costruzione del nuovo ospedale a Sulmona e il Tribunale per i diritti del malato annuncia all'esposto la Procura della Repubblica per il mancato rispetto del cronoprogramma indicato dalla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Secondo l'azienda sanitaria, il 31 marzo dovrebbe essere il termine ultimo per la consegna dei lavori, un passaggio obbligato che darebbe il via libera subito dopo alla fase di collaudo, ma secondo il responsabile del TDM, Edoardo Facchini, non ci sarebbero i tempi per rispettare le nuove direttive. Stanno lavorando ancora sul tetto, dal momento che qualche giorno fa abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere, interviene Facchini contattato da Onda Tg. Noi stiamo recuperando atti e delibere dove venivano fissate date e termini per i lavori del nuovo ospedale, a questo punto ricorreremo alla Procura. Ma il Tribunale per i diritti del malato è intenzionato ad alzare il tiro anche sulle ultime problematiche che attanagliano la sanità pelinia. Liste d'attesa troppo lunghe. Decentramento dei servizi dopo la chiusura del centro igiene mentale e centro psichiatrico a Sulmona. Chiusura in autotutela del centro psichiatrico di Pratola-Pelinia. Ritardi nelle diagnosi per la neuropsichiatria infantile. Un dossier di due pagine che l'avvocato del TDM Katia Puglielli ha consegnato al responsabile regionale di cittadinanza attiva Aldo Cerulli, che lunedì incontrerà Alfonso Mascitelli della Genas. A questo punto penso che bisogna coinvolgere dei livelli istituzionali sovraterritoriali, quindi livelli regionali, e cercare appunto un aiuto affinché vengano risolte delle problematiche che sono appunto urgenti e io direi che sono anche gravi. Noi continuiamo tutti i giorni a ricevere delle doglianze, delle lamentele per quanto riguarda le liste d'attesa, che potrebbero essere anche problemi di poco conto se non fossero sottese delle problematiche sanitarie di particolare importanza. E quanto afferma la Puglielli che assieme al coordinatore cittadino del TDM Edoardo Facchini annuncia battaglia.